Recentemente la città di Agropoli ha visto l'inaugurazione della nuova piazza mediterraneo, l'ex piazza mercato. Durante la cerimonia d'apertura della nuova piazza, il sindaco Adamo Coppola ha fornito ai cittadini un'altra bella notizia che la popolazione aspettava da tempo, ovvero la realizzazione del parco pubblico Liborio Bonifacio tramite i fundi risparmiati dall'appalto di piazza mediterraneo. Il primo cittadino, Adamo Coppola, ha anche affermato che i lavori partiranno a breve. Un intervento di riqualificazione del parco è richiesto dai cittadini agropolesi da anni e l'amministrazione comunale. Nei panni del sindaco e dell'assessore al bilancio Roberto Mutalipassi nel febbraio di quest'anno si è finalmente mossa, presentando una proposta all'Aggiunta che ha approvato la realizzazione di un progetto. Il progetto prevede un'opera di restyling del parco e l'installazione di giochi e attrezzature per bambini normodotati e anche disabili. Oltre a questi piccoli interventi però si potrebbe utilizzare l'enorme spazio a disposizione nel parco per realizzare delle costruzioni più importanti come l'Evergreen Skate Park, richiesto fin dall'amministrazione Alfieri e per il quale era stata creata anche una petizione che aveva raccolto numerose firme. Ai tempi la proposta venne anche attentamente valutata dall'ex assessore allo sport, ma poi non se ne fece nulla. Sarebbe vista di buon occhio anche la costruzione di campi da calcetto basket, una vasca predisposta alla pratica dello skate, della mountain bike e all'utilizzo dei pattini o un più comune campo da calcetto rappresenterebbero un bel segnale da parte dell'amministrazione verso i ragazzi. Costruzioni del genere non solo favorirebbero la pratica di sport, ma darebbero anche all'agropoli giovane un nuovo punto di aggregazione, situato in un luogo importante della città, al momento dato al semiabbandono. Inoltre garantirebbero attività ricreative e socialmente favorevoli, contrastando la vita sedentaria e monotona in cui si imbattono alcuni ragazzi. I giovani, naturalmente, sperano che venga rivolto un pensiero anche verso di loro, da parte dell'amministrazione comunale, che finora ha svolto un ottimo lavoro nel valorizzare questa città dalle mille risorse.